Ciao a tutti ragazzi, noi siamo i The 3 Gamers, e qui c'è il Slender qui con noi su La Mappa 7 Street, qui a commentare c'è a fare il live, c'è io, Alessio e Simone, noi siamo i The 3 Gamers che oggi siamo soli i due, anche l'altro è a casa che studia, infatti è stato bucciato, Thomas, il magnifico Thomas, è il principe. Allora, non è l'unica mappa che facciamo, non è l'unica mappa che faremo, ma ne faremo tante altre, anche in Tattoo, è stata una pagina, tante altre su, a parte sul Slender, anche altre mappe di Slender, Allo 4, Allo 4, Mv3, Black Ops 2, 2 pagine su 8, e niente, vediamo di giocare un po' qua. Tanta partita, la musichetta è inquietante, si, e ancora non si è visto Slender, eh beh, iniziamo, si deve preparare per lo smokey, eccolo, eccola diciamo. Allora, stiamo giocando a riuscire, in un microfon, incorporato, veicolo, c'è? Ricordiamo di, mentre vi piace, se vi è piaciuto questo video. Oh no! Uuuuuh, mamma mia! Iscriversi, direi che si è preparato. Sponchino, è pronto anche per i tentafoli. Le lupe? Le lupe, le lupe. Non ci può fare a meno. Stiamo irritando tantissimamente, sparando gli occhi, 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 gli occhi. O andandogli incontro, andandogli da carino, a volte. E sicuramente, gli occhi, gli occhi, gli occhi, gli occhi. O dagli, forse quello che cerca, il bacino della buonanotte. Sì, perché, non sono un'ombre, non vuole andare anche io a tutti. E' un'imperazione. Però, no, 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 no. Sì, non è un'imperazione. ma qua dietro ma adesso infatti è per quello che non vuoi ma quanto che sarà? no dai un manichino di merda in 2D oh no proviamo che è oh no oh no alto su alto alto su alto alto su alto ma va ma 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 dai ma dai è scomparso oltre al muro ma non è possibile ma porca vacca bluio insudizzato dai concludiamo così eeeh il nostro primo video un saluto da simone alessio e da thomas virtualmente ciao ragazzi iscrivetevi e mettetevi piace ciao raga